Andrea Scaciotti è un artista varesino operante in Svizzera dalla personalità molto versatile. Le sue creazioni nascono dal profondo dell'anima, dal vissuto personale dell'artista che si manifesta prendendo forme ed espressioni inedite, delicate e potenti allo stesso tempo. La mostra Visioni, presentata da Emanuela Rindi in corso fino al 30 settembre, propone due cicli complementari. Una quindicina di dipinti astratti e polimaterici di grandi dimensioni e una ventina di tracce in carta realizzata a mano dall'artista, impressa nel colore delle opere e ritagliata a forma di farfalle, tanto realistiche che sembra che stiano per spiccare il volo. Sono Andrea Scaciotti, sono un artista varesino. In questo periodo sto esponendo le mie opere presso la notica Maiere Galgioni di Mendrisio. Sono una trentina di opere, alcune su tela, di grandi dimensioni tipo quella che ho alle mie spalle, polimateriche e con vari materiali, e altre invece realizzate su carta, fatta a mano da me, dipinta. Le opere su carta si chiamano tracce e sono praticamente opere che nascono dalle opere su tela, perché mentre dipingo queste opere imprimiata nel colore e rimangono appunto queste tracce, che poi ne vengono ritagliate a forma di farfalle e incorniciate in quei formati. la notica Maiere Galgioni di Mendrisio la notica Maiere Galgioni di Mendrisio la notica Maiere Galgioni di Mendrisio la notica Maiere Galgioni di Mendrisio